Un convegno scientifico a prevenzione e cura dell'obesità infantile per continuare a promuovere iniziative di tutela sanitaria nel territorio marzanese. In vista delle prossime giornate interdisciplinari per la prevenzione dell'obesità in età pediatrica, in programma il prossimo 22 e 23 novembre, il Comune di San Marzano sul Sarno è stato promotore in aula consigliare del convegno Nuovi Stili di Vita per una Salute Consapevole. Il momento è stata occasione di sensibilizzazione e informazione sul problema dell'obesità infantile e ai fenomeni alimentari e psicologici associati. Sono intervenuti il prof Carlo Montinaro, primario emerito di pediatria dell'ospedale Villa Marta di Sarno, con la presentazione del suo libro Dieto a Mediterranea, la chiave della longevità. E poi ancora il dottor Salvatore Guercio Nuzio, pediatra endocrinologo presso l'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. La dottoressa Annarita Oletta, psicologa esperta in disturbi del comportamento alimentare e infine la dottoressa Marica De Vecchi, nutrizionista. A presenziare il tavolo anche la dottoressa Rosa Viscardi, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di San Marzano sul Sarno. Insieme al professore Montinaro e al dottore Guercio, al suo staff medico, abbiamo affrontato questa tematica dell'alimentazione, della sana alimentazione, il segreto della longevità, come diceva il professore Montinaro. E abbiamo presentato questo progetto che sarà curato dal dottore Guercio, di questo screening gratuito che potrà essere effettuato sulla popolazione infantile per la cura e la prevenzione dell'obesità infantile. Fare prevenzione è importante, è importante soprattutto quando poi si tratta di screening gratuiti per la nostra comunità.